Buon pomeriggio a tutti, oggi è venerdì 7 luglio, sono le 18 e torniamo a parlare di Ethereum dal vivo. Di che cosa avevamo discusso nella scorsa edizione? Avevo fatto mettere due allarmi, uno per vedere quando sarebbe stato completato il nostro terzo T settimanale e ci aspettavamo appunto discesa, e il secondo per vedere se si sarebbe continuato ad andare avanti con il nostro mensile inverso si sarebbe iniziato appunto un movimento più forte in discesa. Potete controllare appunto come al solito l'analisi fatta due giorni fa quasi praticamente. A che punto siamo arrivati? Siamo arrivati che siamo scesi, abbiamo fatto una bella discesa come vi dicevo che ci poteva portare fino alla media mobile a 50 periodi in rosso e dentro l'acumo, facciamo attenzione a questa cosa, e come movimento siamo staccati parecchio dal precedente mensile inverso. Per quale motivo? Perché questo è il mensile inverso e questo già con 4 giorni è un nuovo T più 1 inverso. A meno che non ci siano forti HFT che ci rispostino e ci riportino rapidamente qui sopra dove abbiamo comunque lasciato l'allarme, noi abbiamo iniziato a violare dei belli swing dopo aver fatto questo massimo. Swing non soltanto per un T settimanale, ok? Ma per qualcosa di più, per cui iniziamo a mettere in giallo qua il nostro avviso e dire ok, perfetto, abbiamo fatto questo primo movimento che fa il settimanale inverso, ogni ciclo inverso, da massimi a minimi e siamo tornati su di massimi, ok? Vediamo se non riusciremo a superare come chiusura l'acumo o anche se chiuderemo nei pressi del livello superiore e poi faremo partire il secondo T-1, ovvero il secondo ciclo a 4 giorni. Questo è il primo a 4, ok? Vi ho ingrandito un po' l'immagine in modo che fosse molto più semplice che vederla così. Per quale motivo possiamo aspettarci un movimento di questo tipo? Perché, come detto, qui abbiamo persino chiuso, abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per aver chiuso che cosa? Per aver chiuso un ciclo trimestrale con due mesi di inversi. Prima parte del trimestrale inverso, seconda parte del trimestrale inverso, 78 barre su massimo 84. È vero! Abbiamo ancora la possibilità per due giorni di provare a ritornare qui sopra. Non possiamo escluderlo, assolutamente. Però siamo in una zona di compressione data da massimo dell'acumo e sotto la media mobile a 50 periodi. Per cui da dove usciremo avremo conferma di questo movimento, che è quello che in realtà mi aspetto di più, piuttosto che di altro. Ci cambierà qualche cosa? E no, perché noi inizieremo a guardare la candela successiva a questa, anzi, questa come chiusura. E poi tutto il resto, d'accordo? Vi faccio per oltre notare, anche se il grafico non è aggiornato, che gran differenza abbiamo tra Ethereum che dal 16 di aprile continua a scendere, ok? Aggiornando i minimi a ribasso, nonostante un minimo fatto qui, che ci ha fatto rimbalzare. Ma non siamo ritornati sopra questo massimo o sopra questo massimo, ok? Quindi, è da, come dicevamo, 82 giorni che si scende. 82, non pochi. E questo invece è Bitcoin. Bitcoin ha fatto 82 giorni, ma ha aggiornato i massimi. Quindi i due grafici sono ben diversi. Qui si scende. La direzione è questa. Ok, discesa. Qui, invece, su Bitcoin, la direzione è salita, con aggiornamento dei massimi. Per cui, come si sta vedendo sugli altri mercati, attenzione perché ci sono degli scollamenti. Per questo motivo, non date per scontato che un mercato farà come l'altro, che una cripto farà come l'altra, eccetera, eccetera. Perché rischia di essere uno dei più grandi autogol che potreste fare in questo periodo. Come per dire, affidarvi a che cosa? Affidarvi a un metodo che, come detto, ci raccontano gli esperti che quanto vale. 28% possibilità di salita per Wyckoff, 28% di discesa. Perché? Perché è interpretabile. Perché nessuno riesce a farmi un video in cui mi dice univocamente che costantemente sa identificare i massimi che mi possono portare a fare un periodo di accumulazione e salita oppure i massimi che mi dicono no, attenzione, adesso ci sarà distribuzione. Non riesco a trovare nessuno che faccia un trade. Scusate, è un video di questo tipo. Purtroppo non sembra possibile riuscire ad ottenerlo. Perché? Perché è discrezionale. È molto semplice. Perché si chiede di interpretare alle persone cosa è questa? È una fase propedeutica a uno spring e a una risalita oppure è una fase propedeutica alla discesa? Mentre invece con noi diventa un pochino differente la cosa. Come hai fatto a vedere su Bitcoin vi avevo volato un countdown e l'abbiamo rispettato perfettamente. Adesso però va controllato questo discorso. Altra cosa che faccio notare. Andiamo a vedere S&P 500 grafico totalmente differente rispetto a quello di Ethereum. È dal 2 di febbraio che continuiamo solo ad aggiornare i massimi. dal 2 di febbraio qui che cosa è successo? Dunque 2 di febbraio vediamo un attimo allora 2 di febbraio prima salita e poi come detto dal 16 di aprile abbiamo solo iniziato a scendere. S&P 500 dal 16 di aprile che cosa abbiamo fatto? Dunque 16 aprile eccoci qua. Siamo solo saliti. Solo saliti contro solo scesi. quindi Wyckoff è un metodo solo che si può interpretare che non è univoco non è come detto è discrezionale c'è poco da fare ok? Le correlazioni tra indici americani e cripto non ci sono perché l'abbiamo appena visto ok? discesa contro salita mi raccomando fate attenzione a cosa vi raccontano persone che probabilmente col trading hanno poco a che fare sono più intenzionate a fare altro con voi si tratta di spennare ok? non so se ho chiarito il discorso per questo motivo noi che cosa adesso facciamo? lasciamo il nostro allarme qui sopra ok? ci ricordiamo che con attenzione faccio notare 78 barre su massimo 84 noi abbiamo già la condizione necessaria e sufficiente per chiudere un trimestrale di inverso che parte da massimi fa minimi e torna su massimi e a quel punto ci sono due strade ok? ecco perché mi tengo ancora a strada mi tengo ancora aperta il discorso di guardare questa candela e vedere che cosa succede dopo un trimestrale inverso che cosa può iniziare? perché sono due le cose che possono iniziare d'accordo? se avete fatto il corso gratuito che trovate qui sulla playlist Trading Days sapete perfettamente una cosa ovvero dare una risposta a questa domanda se utilizzate Wyckoff non sapete rispondere non sapete se è un periodo di accumulazione oppure no state ancora guardando i massimi cercando di capire è un po' come purtroppo ho visto altre tecniche ok? noi matematicamente entriamo univocamente entriamo c'è un'enorme differenza soprattutto a livello di risultati ok? per cui che cosa facciamo? sappiamo perfettamente dalla teoria che chiuso un T più 3 inverso un trimestrale inverso possono partire due cose o un altro trimestrale inverso ovviamente quindi forte discesa e noi abbiamo già una buona indicazione di discesa però è stato solo violato uno swing mancano i volumi manca il tempo sotto una candela di massimo ok? il primo allarme è stato dato il secondo dobbiamo controllarlo proprio adesso con il colore delle candele e i movimenti delle candele se continueremo a scendere l'avviso dato dall'inverso ci è servito e abbiamo la possibilità di vedere partire un nuovo T più 3 inverso un nuovo trimestrale inverso con buona spinta in discesa come abbiamo visto qua e come abbiamo visto qua se invece capiterà la casistica 2 sapete che cosa succederà? sapete qual è la casistica numero 2? non vi rispondo perché se siete in questo canale sapete che cosa può partire oltre a un T più 3 inverso dopo un T più 3 inverso grazie per il vostro tempo e se l'analisi vi è piaciuta e vi ha dato spunti di riflessione per fare trading solo se conoscete l'analisi è evoluta molto bene mettete un bel like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccate sulla campanellina per sapere quando uscirà il prossimo video arrivederci buona serata corro in palestra grazie a tutti